Ciao a tutti. Oggi parliamo di Enzo Zidane, figlio della leggenda del calcio Zinedine Zidane. Enzo ha da poco annunciato il suo ritiro dal mondo del pallone e voglio condividere con voi la sua storia, un percorso non privo di alti e bassi. Enzo nasce a Bordeaux, in Francia, nel 1995. Con un padre così famoso, il suo destino sembrava già segnato. Fin da piccolo, la sua vita ruota attorno al calcio e le aspettative su di lui sono altissime. Inizia la sua carriera nelle giovanili del Real Madrid, una delle squadre più blasonate al mondo. A differenza di suo padre però, Enzo non riesce a raggiungere i vertici del calcio professionistico. Dopo qualche presenza con il Real Madrid Castiglia, la squadra riserve, inizia un lungo girovagare tra diversi club europei. Gioca in Spagna, Svizzera, Portogallo e Francia, ma senza mai lasciare un segno indelebile. Nonostante il talento e l'impegno, Enzo deve fare i conti con la dura realtà del calcio. Infortuni, una concorrenza spietata e il peso di un cognome così importante gli rendono il cammino arduo. Nel 2023 Enzo decide di dire basta, una scelta difficile ma coraggiosa. Vuole iniziare una nuova fase della sua vita, lontano dai campi verdi, ma sempre con la stessa passione che lo ha guidato fin da bambino. La sua storia ci insegna che il calcio non è solo fatto di gloria e successi. Ci sono sacrifici, delusioni e scelte complesse. Enzo ha dimostrato di avere una grande forza d'animo, di saper andare avanti nonostante le difficoltà. Mentre il mondo del calcio continua la sua corsa, Enzo Zidane ci lascia una lezione preziosa, l'importanza della determinazione e del coraggio di seguire i propri sogni, anche quando sembrano svanire. Grazie per aver guardato questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi contenuti. A presto!